Allora, io mi chiamo Fantasmino per gli amici Nino. Sono un cucciolino di circa tre mesi e mezzo, sono bellissimo, come vedete ho gli occhi ambra, sono un incrocio pastore maremano e quindi verrò una bella taglia grande. Sono un cane buonissimo, sono molto timoroso all'inizio con le persone che non conosco perché sono stato maltrattato, ma poi quando comincio a conoscere le persone divento un cane dolcissimo. Vado d'accordo con tutti gli altri cani, sia maschi che femmine e ho bisogno di una casa con un po' di spazio perché non mi piace molto stare in città, mi piacerebbe stare in un bel giardino con una bella famiglia e magari anche un altro cagnolino o qualche altro animaletto che mi fa compagnia. Mi trovo a Perugia ma raggiungo tutto il centro nord, sono già vaccinato, cippato e verrò portato a casa direttamente dalle volontarie senza nessun tipo di richiesta di rimborso. Telefonate al 339 89 822 217 oppure messaggio whatsapp al 338 21 28413. Io sono Nino, vi aspetto. Amore.